In arrivo il 28 febbraio su PC, PS4 e Xbox One, ma anche sulle console della scorsa generazione, Tiff è il reboot di una saga che ha fatto la storia degli stealth game. Eidos Montreal ha il difficile compito di reinterpretare le dinamiche ed i personaggi dei vecchi capitoli, cercando di ammodernare la struttura di gioco, ma replicando le emozioni di un'infiltrazione tesa e silenziosa. Se avete amato alla follia i primi Tiff, vi basti sapere questo. Pur promuovendo una sostanziale riscrittura delle dinamiche di gioco e cercando una sua precisa identità nel panorama non troppo affollato degli stealth game, il titolo di Eidos Montreal riesce con estrema efficacia a conservare alcuni di quelli che erano gli elementi costitutivi del suo progenitore. Soprattutto è la tensione costante nel corso dell'esplorazione a risaltare. L'urgenza di un'attenzione continua ed ininterrotta, l'idea di non avere nessun approdo sicuro e la necessità di tenersi sempre in movimento. Basterà questo a mandare in fibrillazione i fan di vecchia data, che nel nuovo Tiff troveranno un'erede eccezionale dell'originale. Il rapporto con l'ambiente di gioco è molto particolare. Con la pressione di un tasso dorsale possiamo arrampicarci sulle varie strutture che compongono gli stage, scavalcare ostacoli e muretti, ma in linea di massima non potremo mai dominare il level design e scardinarne le regole. Piuttosto dovremo confrontarci con la conformazione dei livelli. Garrett striscia come un ratto negli angoli bui della città, ombra tra le ombre, scivolando grazie alla pressione di un tasto con una sorta di scatto, che ci permette di passare da un angolo buio all'altro. Tutto l'impianto stealth di Tiff gioca quindi sull'opposizione tra luce ed ombra. Vulnerabili quando siamo investiti dal chiarore di una torcia, invisibili quando siamo protetti dal manto del buio. Dobbiamo aggirarci furtivi nei livelli, spegnendo le candele e soffocando le torce. Tiff insomma è un gioco molto nervoso, forse addirittura cattivo. Non c'è mai modo di scappare dal confronto con le guardie e bisogna calcolare ogni passo. Un'altra cosa che Tiff riesce a fare bene è quella di trasmettere un'ossessione quasi viscerale per il furto. Trafugare gioielli, specchi e gemme preziose è una questione di importanza vitale. Nelle stanze tra l'altro si nascondono davvero molti segreti. Interruttori celati dietro le cornisci dei quadri, serrature da forzare con i grimaldelli, casseforti. Una sorta di visione oscura ci permette di evidenziare i punti di interesse. Un po' criticata dai fan di vecchia data, questa opzione si è rivelata tuttavia poco invasiva e ben integrata. Tutto il sistema insomma funziona bene, un meccanismo sicuramente ben oliato. Fra una missione e l'altra anzi saremo invogliati ad esplorare la città, scoprire i segreti dei suoi quartieri, infilarci nelle molte aree nascoste e negli appartamenti dei mercanti. Tiff sembra insomma voler coniugare l'esperienza di un approccio libero, vicino alla filosofia free roaming, con l'urgenza di una più inquadrata componente narrativa, declinata appunto nella sequenza delle missioni. Forse è proprio la linearità di alcune sessioni spiccatamente legate alla progressione della trama che lascia interdetti. Anche gli incarichi principali funzionano meglio in quei momenti, tutt'altro che rari, in cui siamo liberi di esplorare la zona, giocando con le ombre. Complessivamente, anche se la sceneggiatura ci ha dato da pensare, il lavoro di Eidos Montreal pare davvero meticoloso, alla ricerca di nuove vie per quel che riguarda le dinamiche stealth. Tesissima e ben tenuta, nervosa e irrequieta, l'esplorazione non solo funziona, ma trasmette anche una sincera fissazione per il furto. Una sorta di insolita cleptomania virtuale. Se insomma il team saprà evitare le insidi di una narrazione un po' disorganizzata, Tiff potrebbe veramente convincere anche i sostenitori di vecchia data, rappresentando un nuovo inizio per una saga immortale. Sul fronte tecnico, il titolo Eidos Montreal ha i caratteri classici dei prodotti cross-gen. Il salto generazionale si avverte nelle texture più che nei modelli poligonali, ancora un po' spigolosi, ma la potenza del nuovo hardware permette per fortuna una gestione impeccabile dell'illuminazione, che in un titolo come Tiff è fondamentale. Il colpo d'occhio resta comunque avvolgente, pieno, grazie ad una direzione artistica davvero granitica. Il fantasy cupo e intimistico che il team ci propone spicca fin da subito. Tiff è ormai in dirittura d'arrivo e per il momento Garrett sembra in gran forma. Non aspettatevi in questo nuovo capitolo la libertà integrale di Dishonored. Eidos Montreal ha preferito puntare tutto sulla tensione, sull'urgenza del furto, sulla necessità di misurarsi costantemente con l'intreccio di luci ed ombre che si stende su ogni livello. Il risultato, anche al netto di una sceneggiatura non sempre convincente, conserva il fascino tipico della saga. Tiff è uno stealth impegnativo che non perdona leggerezze e sicuramente saprà esaltare i fan del genere. in questo periodo di interregno fra una generazione di console e l'altra. in questo periodo di interregno di interregno dal settore. non è un rischio di interregno di interregno, senza un rischio, che sia lo Grazie.